Solbacchene ufficiale Roma. Roma la Roma ha comunicato di aver raggiunto un accordo con Ula Solbacchene a decorrere dal 2 gennaio 2023. Il 24enne norvegese ha firmato un contratto che rolegherà a club fino al 30 giugno 2027. Ho spinto tanto per realizzare il mio desiderio, volevo davvero diventare un giocatore della Roma e finalmente ora è realtà. Ha dichiarato Solbacchene la sua prima intervista in giallo-rosso. La Roma mi ha colpito da subito. Credo molto nel progetto e nei piani del club e desideravo farne parte. Vengo qui per imparare e per migliorare. Ma anche per dimostrare ciò che sono capace di fare. I tifosi della Roma sono i migliori che abbia mai visto e non vedo l'ora di giocare per loro. Solbacchene arriverà in giallo-rosso dopo la conclusione del proprio contratto con il Botoglind, club con cui ha conquistato due campionati norvegesi. In tre stagioni, Ola ha giocato 91 partite con il Bodo. Segnando 20 gol e fornendo 24 assist. In precedenza ha giocato nel Rosenburg e nel Randeim. Solbacchene si è affermato in un mercato emergente e in un campionato in cui il livello di competitività si è alzato notevolmente negli ultimi anni. Ha dichiarato il general manager dell'area sportiva del club, Tiago Pinto. La sua età. I suoi margini di crescita e le sue caratteristiche si sposano con il nostro progetto, Ola abbina qualità tecniche importanti a doti fisiche e atletiche che lo rendono un calciatore moderno. Diversi club si erano mossi sulle sue tracce, lui ha scelto la Roma, di questo non possiamo che essere estremamente soddisfatti. Solbacchene indosserà la maglia numero, 18. Virgola.